La mia ricerca è partita considerando la qualità degli elementi nel corpo dell'uomo. Quindi, per la terra, resistenza, forma, la resistenza crea la forma, forza, opposizione, trasformazione, per l'acqua, fluidità, passività, ciclicità, abbandono. Il fuoco è impulsi, energia e intensità. L'aria, sospensione, ascolto, attesa, il nuovo, l'altro. Alta si ergeva la reggia del sole e i battenti della porta emanavano riflessi argenti. E qui l'arte eclissava la materia, perché il Dio del fuoco vi aveva cesellato i mari che circondano la terra, l'universo intero e il cielo che lo sovrasta. Grazie. 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 Grazie.